Il collare è munito di un sensore che registra sia l'attività motoria dell'animale sia soprattutto l'attività ruminale, quindi il suono della ruminazione. Da questo ci permette di rilevare i calori del singolo animale e anche le problematiche sanitarie, quindi un calo del movimento piuttosto che un calo di ruminazione oppure quando si verificano contestualmente l'una e l'altra. Le informazioni arrivano all'imprenditore direttamente sul cellulare, come va il monitoraggio? Ok, allora il monitoraggio può essere fatto attraverso quella che è l'interfaccia utente, che può essere la centralina oppure un software sul computer, oppure quindi in questo caso un monitoraggio sicuramente in loco e poi collegandolo a internet possiamo avere gli allarmi sull'email piuttosto che sull'applicazione Alticao24. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono quelli di avere sia una identificazione del calore precisa, quindi un attivometro specifico che rileva quelli che sono i movimenti particolari che fa l'animale quando è in calore, quindi non semplicemente tutti i movimenti ma vengono poi filtrati ed elaborati in modo da dare la precedenza a quelli che sono i movimenti tipici dell'attività di un animale quando è in estro, e la possibilità quindi di incrociare questa rilevazione dell'attività con il calo della ruminazione che quindi mi dà una conferma anche del calore stesso. Poi attraverso il monitoraggio sempre di entrambi ma soprattutto della ruminazione possiamo avere degli allarmi precoci quando un animale non sta bene genericamente, quindi lui mi dà un allarme che può essere completamente specifico, lui lo chiama semplicemente report salute, questo strumento lo chiama report salute, in cui abbiamo o un calo dell'attività motoria o un calo della ruminazione oppure un calo di entrambe. Questo ci viene dato sia sulla base delle medie calcolate del singolo animale sia su dei valori che possono essere dei valori assoluti, di minuti di ruminazione, quindi quando a prescindere diventano comunque troppo bassi per essere un animale sano. 15.000 le bestie monitorate in Italia, avrete sicuramente il polso un po' della situazione, quante bestie sono state salvate da malattie anche se non abbiamo un dato preciso, cioè capita di intervenire in tempo per evitare che l'animale muoia o per perdere un calore, quali sono i vantaggi da questo punto di vista? Ok sì certo, allora uno dei vantaggi è quello che diciamo non si perde un calore, quindi questo ci può aiutare anche a lasciargli per dire dopo il parto quel momento di quel cosiddetto periodo di attesa volontario dove gli allevatori tendenzialmente o vanno a fecondare subito perché poi hanno paura di perdere il calore successivo, quindi in questo caso possiamo registrare tutta l'attività dell'animale e decidere poi quando è il momento per andare a fecondare l'animale, quindi e poi un'altra delle cose che è sicuramente utile è il momento per la fecondazione perché non basta rilevare il calore, perché con la rilevazione a vista sì un bravo allevatore ne vede tanti ma comunque non sappiamo in effetti se il salto che vediamo, quindi l'animale che manifesta calore ha iniziato in quel momento oppure è l'ultimo salto e poi l'attività andrà a calare, quindi anche andare a determinare qual è il momento ideale per la fecondazione e poi sicuramente sulla salute in particolare sia nel momento dell'asciutta piuttosto che negli immediati giorni del postparto, quindi diciamo proprio il periodo di transizione, permette di identificare tutte quelle problematiche metaboliche e di intervenire precocemente e di andare a vedere appunto se è stato giusto il trattamento che abbiamo fatto perché oppure nel caso della mastite non si va tipicamente a fare un antibiogramma, a vedere quale può essere l'antibiotico migliore, si utilizza l'antibiotico e poi se l'animale comunque riprende la ruminazione prima ancora magari di vedere un miglioramento, in effetti un beneficio clinico andiamo a riscontrarlo sulla ruminazione. Grazie a tutti!